ciao a tutti ragazzi bentornati sul canale merodeto oggi siamo su minecraft e vi farò vedere come installare le shaders stiamo parlando di modifiche grafiche una modifica che renderà il vostro mondo più realistico infatti non parliamo di modifica alla giocabilità o alle meccaniche di minecraft in quel caso parliamo di vero e proprio mod e sul mio canale troverete anche il video inerente alle mod su minecraft qui invece andremo a parlare di modifica grafica importantissimo prima di installare questa modifica vi consiglio di controllare le prestazioni del vostro pc in quanto sono comunque modifica abbastanza pesanti quindi parliamo della nostra grafica di minecraft verrà rivoluzionata con questi pacchetti shaders parliamo quindi di un'acqua diversa del sole riflessi della luce diversi delle ombre ed altre piccole modifiche che vedremo tra poco cosa ci servirà per installare queste shaders parliamo sicuramente ci servirà minecraft originale java edition io lo isolerò sul mio pc adesso insieme a voi ci servirà un pacchetto specifico chiamato iris vi mettono naturalmente il sito in descrizione e ci servirà alla fine il pacchetto shaders da voler installare ok ragazzi andiamo subito sul sito iris eccoci qui sul sito iris andiamo nella sezione download andiamo a scaricare l'installer importantissimo deve essere mandato in esecuzione con l'icona java eventualmente vi metterò naturalmente sempre il link in descrizione andiamo sul sito java e andiamo a scaricare l'ultima versione ok l'installazione di java è stata completata adesso ritorniamo sul iris installer vi chiederà la versione del vostro minecraft attuale nel mio caso è l'ultima quindi 1.21.1 e l'installazione in questa directory quindi facciamo install ok il lavoro su iris è stato fatto adesso rientriamo in minecraft eccoci qui ragazzi e come vedete qui abbiamo la versione iris in questo caso la facciamo partire facciamo quindi gioca sono consapevoli siti e rischi gioca qui andiamo nella sezione opzioni e poi in grafica come vedete la schermata è diversa rispetto alla classica originale andiamo adesso in alto nella sezione shaders qui sarà possibile trascinare direttamente i pacchetti delle nostre shaders preferite questo possiamo farlo o attraverso internet oppure possiamo andare direttamente qui in download shaders ci clicchiamo e facciamo apri collegamento ci aprirà questo sito dove sarà possibile scaricare il pacchetto da voi scelto proviamo a scaricarne uno giusto per fare la prova andiamo a scaricare questo di nuovo nella sezione download ci chiederà la versione del gioco e quale piattaforma nel nostro caso l'abbiamo fatto attraverso iris andiamo a a scaricare il pacchetto ed è questo qua il pacchetto da noi scaricato adesso possiamo o trascinarlo direttamente in minecraft in questo spazio qua vedete o possiamo aprire direttamente la cartella shaders e andarlo a copiare direttamente in questa cartella come vedete c'è quello che abbiamo trascinato qualche secondo fa ritorniamo in minecraft dobbiamo assicurarci naturalmente che è tutto abilitato facciamo applica è fatto facciamo anche qui fatto fatto e andiamo ad aprire il mondo che abbiamo visto all'inizio del video questo qua era il mondo assicuriamoci che tutto attivo quindi opzioni grafica ed è tutto attivato facciamo anche qui applica è fatto riprendi partita ecco a voi la nostra scede attivata ragazzi come vedete l'acqua è completamente diversa la luce del sole è diversa anche il sole stesso non ha più la classica forma quadrata anche le ombre ok ragazzi io vi saluto per questo episodio vi ricordo like a questo video iscrizione al canale e ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti